Un'altra intervista a Pasolini. Un'altra visione del mondo. 20 dicembre 1968. Difficile condurre un'intervista con Pasolini. Da qualche tempo evita i giornalisti, che nel migliore dei casi giudica immaturi di fronte alla sua arte, non riuscendo perciò a farlo parlare del suo lavoro teatrale. È troppo preso perché si possa discutere di orgia, è meglio che i giornali stiano lontani dal teatro e lasciano giudicare dal mio pubblico. L'abbiamo pregato parlarci del tanto discusso diorema. Sul film è stato detto e scritto molto. Ho saputo che il pubblico ministero aveva chiesto che la pellicola fosse bruciata. Così si è solito fare per i film pornografici. Per chi ancora non l'avesse scoperto non c'è nessun rapporto tra le mie pellicole e certa produzione che io tra l'altro non vado a vedere perché mi dà soltanto fastidio. Per quello che ne ho sentito dire sono film soprattutto stupidi. Così rispose Pasolini. Con una punta polemica lo scrittore poi proseguiva. In Italia hanno processato il mio film. In altri paesi si mette in discussione il cosiddetto codice morale tradizionale. Naturalmente non sono favorevole a certi eccessi ma ritengo che tutti possano comportarsi come vogliono nella loro vita privata. Allo stesso modo ad un artista deve essere concesso nel limite del lecito di esprimere la propria arte nel modo e nella forma che crede più congeniale. Teorema non è un film sceno e Pasolini ha vinto la sua battaglia. Qualche anno fa forse la vicenda processuale si sarebbe conclusa diversamente. Questa sentenza riflette un'evoluzione in un atto nella nostra società. Purtroppo si tratta di un'evoluzione lenta che dimostrerebbe che la società ufficiale oggi è in fase di involuzione. John Kennedy, Giovanni XXIII, sono stati spodestati da De Gaulle e dai colonnelli greci. Perciò è ancora prematuro parlare di evoluzioni anche se esistono le premesse perché questo venga. Gli occhi nascosti dai consueti occhiali neri, la pesante camicia di lana, i calzoni di tweed, per Paolo Pasolini se ne va. Vorremmo chiedergli ancora molte cose e discutere con lui, ma è impossibile. Gli abbiamo fatto però un'ultima domanda. Orgia è un'opera autobiografica? Non ho voluto parlare di me stesso, ho rappresentato una borghesia in cerca di una soluzione puramente esistenziale alle sue crisi di coscienza. Per me è diverso. Prima il misticismo e la cultura, poi l'ideologia marxista mi hanno condotto ad un'altra visione del mondo.